BLEBIBLEAD BLEBIBLEAD POMMA VAI AL BAR LA CAPUCCIATA DELLO ZIZU LA CAPUCCIATA DELLO ZIZU MA FACCIO VOLARE Non ho mai chiamato in vita mia Official Deluxe Adesso vado nel gruppo di merda di Melagodo E vado a chiamare Official Deluxe Dov'è Official Deluxe eccolo Chiama ufficial deluxe Voglio vedere proprio che scusa si inventa sto tumore Ciamò Sto qua eh Stavo spessato due tre fotrine su Instagram Stava questa guarda che fiedini Orco Dio Ma che dobbiamo fare Facciamo un pack opening Da cento pacchettini Se arriviamo a 14k Cento bei pacchettini Che di norma li facciamo da 70 Da 65 anche perché so sordi Però sì Cento pacchettini Con roba Al marzone sai che io faccio Se tipo entramo in un ring Lo prendo porco Dio per la barba Così boom Ginocchiata in bocca Quattro pizze Poi pensate che esistano queste cose sportive Non esiste Ma che cose sportive Sì Che cose sportive Quando pensi che non lo chiami al telefono Fratele ho chiamato il cap al telefono Non mi migliora Mi sta ignorando apposta Ma che vuol dire? Guarda che fa No io già mostrare comunque attento No no fatti lo leo Si porco di questo Si tira fuori il cazzo Perché questo qua lo so Mettilo 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 Non volevo girare No guarda No guarda l'arriva Che staffo guarda come ero Porco voglio Porco voglio Mi è caduto Top se sente lo vedo pure io Si sente bene? Sono normale ok E l'elgato l'ha riacchitto un attimo così Porco dio ho tirato un calcione All'elgato clamoroso regà Vediamo se la prende Ti prego dimmi che la prende Porco voglio Se la porta a casa Arcini Anche se sarta sempre Fida di Artemca se la porta Eh calla Allora se la porta a casa Team Wolf Team Wolf Gaggio Ma non è possibile Ti ha vinto Ma che cazzo Ma che cazzo ho fatto? La feed ho fatto Non ria sta molla eh Ecco il meteo per il giorno 6 Solleggiato Quanti bicchieri di limonata Vuoi preparare oggi? Cinque Quanta Quanti bicchieri di limonata Vuoi preparare oggi? Cinquanta Cinquanta bicchieri Sicuro Quanti cartelli pubblicitari Vuoi mettere? Due Due cartelli pubblicitari Buongiorno C'è sta in palio rewind Sì sì Vi sparo Vi sparo State attenti Disparo Pronto? 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 Aho? 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 Aho è stato Aho? Azi Azi Ti sento lontano mollo Ti sento lontano Parla un po' più forte Pronto? 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 Aho? Non mi hai fatto vedere un cazzo Ma che cazzo sei Eddie? Di Tekken 3 Ma che ho visto? No vabbè ragazzi Ma mi ha fatto Mi ha fatto ballare la samba Ragazzi Pensa quanta ciccio gamer Il tonno Ragazzi Che cazzo vuol dire? Anzi ma ho messo 201 Perché Ma io mi hai dato Penso molto di più A sapere che è la 200 Me la sto spassando con i miei amici Tocco merda Giampiscio No ragazzi Non ci credo Ragazzi Io l'ho bustato con questa Adesso sei un'altra volta Tutti contro di me Ma vai Ma sta già pronto Signori Perché il K dovrebbe Preghiamo Dio Che non c'è il pisello De fuori Oh Eh Eh Frate C'aveva le mani lungo il corpo Perché si muoveva così? Torna per l'ecco 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 Porca madonna Torna per l'ecco Torna per l'ecco Ma chi è l'uomo Michelin nell'angolo? No Era bellissimo Mi scher... Frate Ma che sta succede? Allora sono... Allora non è...